Soli giri amici sportivi e bentornati a Chiedi al Bardo, l'unica videorubrica che risponde alle vostre domande sul wrestling. Oggi mi chiedete, ma non speravi in un maggior successo delle tue rubriche su YouTube? Siete proprio virichini eh? Allora, beh, in parte sì, in parte sì. Iniziamo analizzando la mia platea televisiva. In tv, compreso cielo, Sky, le repliche su Sky, credo che settimanalmente io venga visto da diverse centinaia di migliaia di persone. Ma più che visto, sentito, perché lavoriamo in televisione. Quindi è la mia voce quella che entra nelle case. Su questa platea il 10% potrebbe essere 20, 30, 40, 50 mila persone. Iscritti. Invece ce ne sono 6200, 6300, più o meno. Quindi molto, molto meno rispetto al 10%. E oggi, insomma, in un'era digitale in cui tutti hanno il cellulare, la connessione a internet o quasi, i numeri sono molto, molto bassi. Dunque, se dobbiamo verificare e valutare la cosa prettamente dal punto di vista numerico, direi di sì che le mie videorubriche sono un clamoroso insuccesso. Perché? Perché ho già una base che mi segue, che dovrebbe essere trascinata qui e interessata a Chiedialbardo, ai vlog, a scoprire di più sul mondo del wrestling che gli piace. D'altra parte, io mi rendo anche conto di offrire poco in termini estetici. Vabbè, io sono io, sono quello che sono, insomma. Ho ripreso un po' di chili, adesso mi sto allenando, li sto ritirando giù lentamente. Lo scenario è quello che è. Siamo a Sky, di solito, a volte siamo nella casa che ho in affitto a Milano nei mesi invernali, nei mesi freddi. Non c'è un montaggio, vedete, non faccio neanche tagli. Se sbaglio a dire qualcosa corro o mi correggo. Non ci sono foto che appaiono qua, video che girano, interferenze. I video sono abbastanza poveri e questo lo devo ammettere. È una telecamera che riprende uno che discute con voi. E l'altra cosa di cui parlare è però il fatto che chi mi segue, anche se pochi, anche se 3.000 e 2.000 ad ogni rubrica, per me è un bel numero a prescindere. Nel senso che è chiaro, avessi i 50.000 iscritti e le 30.000 visualizzazioni ogni volta, beh, direi cacchio, figata, sono contento, è una cosa di soddisfazione personale. Però si tende sempre a sottovalutare che chi ti dà del tempo, ti regala fiducia, ti sta a sentire, è vivo, è presente, c'è 2.000 persone, 1.500, 1.000. Sono comunque 1.000 persone che hanno scelto, scelto, di guardare un tuo video. E quindi non puoi dire valgono poco perché sono solo 1.000. anzi, il mio modo di operare è, cavoli, sono ben 1.000. E ognuna di loro che io non conosco, che ha un nome, un cognome, una vita, dei sogni, degli amori, delle delusioni, delle aspirazioni, oggi si è sintonizzata sul mio canale. Poteva andare da gente più famosa, che ne so, da Yotobi, poteva andare a sentire parlare di altre cose, non so, quei 2.000 su server, gente che parla di videogiochi, adesso io dico dei nomi che poteva sentire quelli di Melagodo, che ne so, e poteva andare da ragazze carine che hanno delle rubriche, le fashion blogger, e invece ho scelto di passare 6-7 minuti con me che parlo del wrestling, rispondo ad una domanda. Quindi è vero, 30.000 farei salti di gioia e dire yuhu, sono celebre, sono popolare, però si vede che la mia audience, la mia utenza, non vuole, la grossa parte della mia utenza, non vuole la videorubrica, vuole divertirsi col wrestling, che è la cosa bella, il combattimento, la trama, l'intrigo, e il video quando ci può, quando c'è tempo, oppure chi se ne frega, insomma. sento qualcun altro. Quindi sì, speravo in un maggior successo dalle mie rubriche YouTube, ma sono comunque contento così. Magari col tempo i video rimangono su, acquisteranno visualizzazioni, diventeranno più popolari, insomma. La cosa bella di YouTube è che c'è l'archivio, quindi magari c'è una grandissima fetta di fan che non sa che ci sono queste rubriche, le scopre fra sei mesi, e pian piano, col tempo, con calma, va a beccarsi le domande che più gli interessano. Poi, l'altra parte sta a voi, darmi una mano. Io ogni tanto ve lo chiedo, ma non batto tanto il ferro sul chiodo. Se vi piacciono i miei video, datemi una mano, condivideteli, scrivete qualcosa sotto nei commenti, metteteli sui vostri social, commentateli sui vostri social, anche se siete in disaccordo. Questo è, insomma, l'assist migliore che potete darmi, voi 800, 1000, 1500, 2000, che ogni volta mi seguite. E poi qualche è, insomma, avrete anche visto che ho aperto gli spot sul canale, quindi di tanto in tanto passa la pubblicità. L'ho fatto perché volevo vedere cosa ti dava questo canale, in termini economici, su quanti ti guardano. Nel mio caso veramente sono cifre molto marginali. Ma sto pensando, in 12 mesi, magari se la cifra diventa vagamente decente, di raccoglierla tutta insieme, magari la metto in qualche cosa di beneficenza. Di solito sotto Natale vi invito sempre a sostenere qualche associazione, qualche gruppo. Su Facebook l'ho fatto negli anni scorsi con l'Unicef, e vi rinvito a farlo. So che magari non era lo scopo della domanda, ma visto che parliamo di YouTube, avrete visto che di tanto in tanto passano gli spot, le cosine, eccetera. Ecco, vi do anche raguaglio sul fatto che non mi metto in tasca un gran che di soldi, anzi sono cifre veramente, veramente marginali, e se mai la cifra dovesse diventare proponibile per un'associazione, vado a dargliela, perché a me non cambia la vita, ma magari la può cambiare a qualcun altro. Ecco, quindi i video che faccio su YouTube non sono un gran che a livello speculativo, almeno non è un lavoro, ecco, farli. Potrei anche non mettermi a dietro. Però l'ultima cosa, essendo noi un po' spariti dalla TV, vi ricordate, tanti anni fa c'era zona wrestling, facevamo i lanci per i magli eroi di SmackDown, magari farmi vedere in video con voi, creare un legame anche diretto, per quanto non propriamente di vicinanza e di dialettica con scambio immediato, può essere un qualcosa in più, che mi permette di restare vivo nella vostra memoria, anche per come sono fatto. E vi, magari in futuro, può anche darci delle opzioni, delle possibilità, non si sa mai da cosa nasce cosa. Io ho iniziato a scrivere sul web per farmi vedere, perché volevo fare il telecronista e lo faccio. Magari chi oggi fa YouTube lo fa per diventare telecronista e si fa vedere, chissà, magari lo diventerà un giorno. Magari qualcuno vede questi video, gli viene un'idea e un domani diventa, che ne so, un format, qualcosa, o diventa uno spunto per fare dell'altro. Quindi mai darsi un freno, mai a farsi abbattere, mai giudicare i numeri, guardandoli solo dal lato negativo, e qui li vedo anche dal lato positivo. Quanti sarete qua sotto a guardare il video? Non lo so, 1200, 1300? Cacchio, grazie ad ognuno di voi, perché senza ognuno di voi il video non ci sarebbe stato. Io avrei parlato ad un muro rosso che mi guarda così desolato e afflitto e dice che sta di questo. Va bene, direi che anche oggi abbiamo risposto al vostro quesito. Vi ringrazio per la domanda. Ci vediamo quanto prima, sempre e solo qui, con Chiedi al Bardo. Ciao!